E oggi qui per chiedere cosa? Per chiedere forza, giustizia, legalità, per aiutare i ragazzi, per un po' di tutto, per non dimenticare. Oggi è importante stare qui perché è un nostro dovere l'impegno, lottare e non arrenderci mai per mio fratello e per altro. Insieme alla memoria che cos'è che chiedete? Noi chiediamo veramente un aiuto perché molte volte lottiamo da soli, siamo da soli e abbiamo bisogno veramente di un impegno maggiore dai cittadini che stiano vicino a noi e ci diano aiuto perché molte volte siamo lasciati soli.